Il video è partito? Sì Signori e signori ci troviamo a... dove siamo? Guadagnolo Viette e Montagne Stiamo per invocare una strada serrata Che non sappiamo dove porta Con il nostro pilota Nicola e il copilota Simone E i passeggeri Frank e Ciro Ha fatto un momento a C? Ha detto uno e vi trovo il pilota tuo Vai il pilota Nicola è parta Mangia Maronna Non dovete mangiare Maronna? Sì Non verrà messo il bip E Nicola va Stringi sinistra Sinistra 1 Sinistra 1 Sinistra 1 Sembra 1 Perché è la prima Maronna 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 Ma io ci rimaniamo al luogo Chi ci viene afficciato? Si chiama Mazzito Baro dove è? Ma non c'è La gente Ma non ci eserà Ma non ci riesco a girare Ma non ci riesco a girare E non ci riesco a girare Ma non ci riesco a girare Non ci riesco a girare Il nostro pilota La nostra punta Fiat 1100 Sì, l'elicottero sta dicendo un po' di spazio il cavolo, va a fare un manovra. Non ce l'hai una figlia con l'elicottero. La manovra, vediamo. Vai, vai, vai. E tu che stai facendo? No, non la faccio, non la faccio. Un marone. E il nostro pilota a retro massa? Ragazzi, l'arriva perché il fondo stradale non è dei migliori e si abboccava tra il rotto. Marone, il car si chiama sotto. Nico, Nico, Nico. No, 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 no. No, 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 no Io, se moriremo saranno tutta la mia coscienza, aspetta, aspetta, ti scende, è già fuori mentre qui. Siamo scesi dall'autovettura, io sono sceso, la manovra di Nicola, stai! Esaminiamo il pericolo del pericolo, sì, era tutto, era finita, wow, arriviamo la roba, oh, andiamo, andiamo, faccio le remite su lì, a roba. La nostra vendura sulla strada è quasi terminata, allora, pilota, mi scusino, chi sono? È stata un'emozione emozionata, voglio un passaggio, posso salire? Prego, prego! Davanti quanto si figgi? 15, sì. Davanti o doppi? 15, sì. Oh, però la macchina, potete far che c'è, ci ne vediamo a fuori, eh? Questa è un po' palazzo qui. E vai, i pellegrini, i pellegrini, io santo Paolo mio, te, facciamo seri, per chiudere, per chiudere in bellezza una bella Montemaranese. Un po' calma, è un po' calma. Signori, signori e signori, dall'opennino del centro Italia è tutto, arrivederci!